Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savino Tesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Santi e Martiri. Spero dopo la spedirete a tutti su WhatsApp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Santi e Martiri perché nel corso della storia ci sono state persone di fede grandiose che hanno compiuto delle sagge opere degne di grande risalto. I Santi appunto hanno donato grandiosa carità ai poveri e non solo, anche elevando a livello morale le sfere grandiose dell'Onnipotente per far capire che sulla Terra ci sono dei valori forti che tendono verso l'alto. Persone che hanno dato la vita, dei martiri che sono morti per testimoniare una religione che ci unisce, ci trasporta, ci riempie di fede nell'anima e ci dà tanti impedimenti perché il male è molto per ottenere assai bene. Siamo vittime della malvagia esistenza di molte persone che impediscono a Santi e fedeli di realizzare il proprio intento. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Santi e Martiri. Nel corso della storia ci sono state persone di fede grandiosa e immensa memoria che hanno compiuto sagge opere. Persone che hanno dato la vita per il bene dell'umanità, martiri con la fede nell'anima e senza impedimenti e proibità. Hanno testimoniato fino alla morte la loro saggezza e sommattività. Hanno donato le loro vite per testimoniare la fraternità. Santi e martiri, nostri esempi, ricchi di carità e presenza, nei remoti fasti e tempi, hanno offerto la grandiosa testimonianza. Grazie, spero la condividerete. Arrivederci.